Siamo al convegno della società italiana e le grandi crisi economiche 1929-2016 che si tiene alla Sapienza Università di Roma, organizzato nel ciclo degli eventi per celebrare i 90 anni dell'Istat. Parliamo con Marzio Barbagli, professore merito dell'Università di Bologna, uno degli organizzatori del convegno. La mia impressione è che il tema del convegno e come è stato organizzato rappresenti bene la natura dell'Istat perché il convegno analizza il mutamento, cerca di studiare il mutamento e l'Istat anche se viene considerato un istituto che produce dati solo per il presente in realtà ci aiuta sempre a capire che cosa è cambiato. In secondo luogo il convegno affronta un tema di fondo, cioè quello della crisi economica, della crisi attuale e lo confronta con la crisi del passato. In terzo luogo perché non si limita il convegno a analizzare la situazione economica, non ci sono solo economisti ma ci sono storici, sociologi, demografi, antropologi e appartenenti a molti altri settori delle scienze sociali. Infine perché tra questi, tra i tanti partecipanti abbiamo oltre 400 relatori, ci sono anche studiosi che non producono solo statistiche ma usano i metodi qualitativi. Quindi un approccio a tutto tondo, multidisciplinare, ci aiuta ad avere un quadro migliore della società italiana in tutto questo lungo periodo. Così è. Grazie.